Sì. Signore e signori buonasera, benvenuti alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio per l'incontro di basket valevole per la terza giornata fase orologio del campionato regionale serie D, girone B. Incontro di basket tra la maceratese basket e la San Giorgese basket. Per il basket maceratese scendranno in campo col numero 4 Marco Flamini, col numero 6 Marco Tiberi, col 7 Severini Andrea, con l'8 Chimanov Petrov, col numero 10 Core Marco, con l'11 Giacomo Foresi capitano del team col numero 12 Mauvo Chiam, col numero 13 Carlo Hortensi, col 15 Alessandro Staffolani e col numero 19 Filippo Panaro. Coach del team maceratese, il signor Vittorio Di Pierdomenico, aiuto allenatore il signor Andrea Rutolini. San Giorgese basket scendranno in campo col numero 5 Fabrizio Berluschi, col 6 Giuseppe Fedeli, col 7 Paolo Mariani, con l'8 Capitano della squadra San Giorgese, Luciano Luciani, col numero 9 Marco Condamatteo, col 10 Andrea Rossi, con l'11 Luca Menconi, col 12 Fernando Cimelli, col 13 Mirko Giulietti, con le 15 Edgar Paguay e Festus. Coach del team San Giorgese 2000 Basket, il signor Stefano Carducci, aiuto allenatore il signor Gaetano Condamatteo. Arbitri dell'incontro saranno i signori Michele Quadrini di Torre San Patrizio e il signor Larry Carlini di Fermo. Un ringraziamento va agli sponsor che ci hanno la possibilità di svolgere il campionato di Serie D, in modo particolare a Luciani Impianti e alla CMT di Porto San Tripilio, alla Proteus Pesca di Civita Nova Marche e all'Otti Galuzzi di Porto San Giorgio. A tutti voi buon divertimento!